Ora c'è anche l'ok. La ricerca petrolifera a costo di grandi sacrifici ambientali per il turismo non si ferma. Il Ministero dell'Ambiente ha sbloccato tre provvedimenti di via relativi alle prospezioni del Fondo Marino per la ricerca di idrocarburi nell'ambito dei permessi di ricerca a largo delle coste del Barese e del Nord Brindisino. I tre progetti portano alla firma della Northern Petroleum, una multinazionale inglese che ha interessato uno dei tratti di coste più belli della Puglia, Trammola di Bari, Polignone a Mare, Monopoli e Fasano. L'autorizzazione concessa, spiega Giuseppe Donemibus, ingegnere ambientale che ha redatto per conto del Comune di Pognano lo studio di 333 pagine, è un parere di compatibilità ambientale che si scontra col parere negativo dato dalla regione Puglia e con le osservazioni presenti da alcuni comuni, ma tuttavia autorizza la ricerca dell'idrocarburi a largo delle coste pugliesi utilizzando la Mgum, una tecnica di ispezione dei fondali marini eseguita con esplosioni continue per verificare la presenza del petrolio. Le tre prospezioni utilizzate verranno eseguite su piattaforme petrolifere tra il Barese e il Bendisino, la prima a 24 miglia dalla costa nord di Monopoli, la seconda a 35 da quella di Polignano e la terza a 45 miglia da Mola di Bari e interesserà una superficie di 711 chilometri quadrati. Mattinata, appello alla campagna Oliaria 2015. L'associazione Le Coline Mattinatesi e le associazioni Progetto Salute e Benessere in prossimità dei trattamenti fitosanitari per la prossima campagna Oliaria 2015 lanciano un forte appello a tutti i proprietari terrieri, affinché i memori delle disastrose esperienze dello scorso anno si facciano trovare più preparati e meno rassegnati. Siamo fortemente convinti che l'atteggiamento più dannoso sia la passività del fatalismo e che prepari attrezzi a fare comunque qualcosa che sia la cosa migliore. Lo scorso anno Mattinata ha perso qualche milione di euro e non ci si può più permettere una cosa simile. Si vuole incoraggiare l'agricoltore ad utilizzare anche trattamenti eco-compatibili, consapevoli che essi sono economici, efficaci nei risultati e molto più opportuni per la nostra salute. Si comprende che viene chiesto un vero cambiamento culturale, ma bisogna innovarsi in modo da poter ottenere il massimo anche in momenti difficili. A Gesci, 80.000 verso Roma sabato 13 giugno. Ferve l'attesa per gli 80.000 scout che il giorno 13 giugno si riverseranno a Roma per un'udienza con Papa Francesco sull'onda blu con fazzoletti di tanti colori che riempiranno Piazza San Pietro. Anche nel paese di Monte Sant'Angelo partiranno 50 ragazzi che non potevano perdere questa occasione. Da tutta la Daone i partecipanti saranno circa 400, mentre dall'intera Puglia saranno circa 8.000. Un evento che porta per la Gesci un grande momento. I ragazzi e ragazze diventeranno pellegrini con Francesco, così come recita il titolo della manifestazione. Edilizia incapitanata e notte fonda. Gianni Ricci, segretario generale provinciale UIL, e Yuri Galasso, segretario provinciale Feneal UIL, lanciano la sfida e fanno fronte comune per affrontare con risolutezza le difficoltà di un comparto in grande sofferenza e che dal 2008 al 2015 in provincia di Foggia ha perso il 60% della sua forza lavoro. Purtroppo i dati della Capitanata rispetto ad una crisi complessiva che riguarda naturalmente non solo il territorio della Capitanata ma più in generale quello italiano, ha visto l'edilizia in un momento di crisi drammatica. È il settore che sicuramente ha perso di più. È il settore che ha perso di più perché nel frattempo non siamo stati in grado di capire che cambiava il sistema. Il sistema cambiava, finiva la possibilità di costruire in periferia, bisognava attrezzarsi con nuovi strumenti urbanistici che magari potevano riguardare il recupero del centro storico di molti paesi della provincia di Foggia che hanno questo lusso. Purtroppo questo non è stato fatto. Oggi ci troviamo in una crisi del comparto tremenda che ha dei risvolti drammatici soprattutto dal punto di vista sociale. Noi abbiamo cercato di rimarcare insieme con Gianni Ricci, il segretario della UIL, proprio questa situazione. Cioè noi stiamo monitorando il comparto edile ma ci sono pochi soggetti che oggi si stanno dedicando a quello che accade nelle famiglie. La proposta del sindacato? La proposta del sindacato è che tutte le forze devono mettersi insieme per capire oggi un modo di fare edilizia sostenibile e che sia adatto ai tempi. E finito, come dicevo prima, l'edificabile in periferia, bisogna buttarsi sugli strumenti urbanistici dei centri storici. Un incendio di vaste proporzioni sta interessando un costone di Monte Sant'Angelo. Nelle ultime ore, il rogo che ha divampato poco prima delle ore 10, sta allargando il suo raggio di azione. Sul posto sono intervenuti i vici del fuoco di Manfredonia e gli uomini della Guardia Forestale. Grazie per la visione!